Ragazzi, vedete la in lontananza chi è che c'è? C'è Chiara, c'è Chiara, questa Chiara qua E io ho bevuto, appena avevo bevuto la pozione di invisibilità Perché? Perché adesso dovremmo fare uno scherzo Allora lei come al solito non sa niente che io sto registrando Ok, adesso mi sono tolto l'armatura perché mi sono appena accorto che prima non ce l'avevo E chissà come non mi ha visto, boh vabbè Forse, forse ero tipo troppo lontano Oppure magari boh pensava che fossi io e non si accorta Perché io le avevo detto ragazzi Che andavo, che me ne andavo da qualche parte, ok? Tipo, in un giro a cercare altri materiali per costruire questo castello Perché per questo che stiamo spianando qua e stiamo facendo tutto quanto questo Però in realtà dobbiamo farle lo scherzo Perché i materiali ce li abbiamo e non ci mancano I materiali ci serve solo la voglia e la pazienza Però, capito, cioè, adesso lei sarà tipo, capito, dovrà fare tutta questa cosa E noi inizieremo a darle fastidio Tipo, mi metterò qua e non farò mettere il blocco a lei Mannaggia, ha il suo sedere grosso Eh, ti sposto Ok, perfetto, vedi Adesso dice, oh ma come mai non si impiazza? Oh, 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 come mai? Ok, eh Mi rimetto, mi rimetto, mi rimetto Eh, eh Ok, va Ma c'è io veramente scioccato da Chiara Che non riesce proprio nemmeno a mettere un blocchetti Raga, mi ha visto Mi ha visto con il blocco in mano Aiuto, aiuto, aiuto Ehm, mi ha scritto Vediamo cos'è che vuole Mademis Adesso lei, immaginatevi la sua voce tutta così Mademis E io dico Dimmi Chiara Ma che stai facendo? Cioè? Cioè, cioè? Vediamo, vediamo un po' cosa dice Perché secondo me lei ora è un po' Capito? È un po' un procione scurreggione Non capisce Perché già ha fatto after questa notte, no? Dice Io sto costruendo E come ti ho detto Io sono a prendere materiali Ovviamente io faccio anche fatica a scrivere Perché no, ovviamente Cioè, fare due cose contemporaneamente Per me vuol dire impappinarmi il cervello Malamente Perché c'ho capito il mio Possibile Io non capisco le persone che riescono a fare due cose contemporaneamente Io veramente non le capisco Sia parlare sia scrivere Ehm Ehi ma sai Ho visto un blocco volante Aiii Pensa te A un blocco volante Sì sì Allora Vediamo Adesso non può più passare i blocchi Ha Allora sono troppo cattivo comunque con i miei amici Cioè non so come non mi abbiano ancora tipo preso a pugni Immaginate i miei amici che mi prendono a pugni Veramente No, io sono scioccato da me stesso E adesso la prendo io a pugni però Ma chi sarà mai? Dice adesso Ma chi è? E adesso adesso tipo prende tutto Guarda guardatela guardate È scema è scema guardatela Tutta quanta là che gira Zzz Fa proprio così eh Quando nel suo cervello farò più zzz Capito? Anche voi dovete fare zzz per il suo cervello Capito? E nei commenti scrivete zzz Capito? Perché è il suono che si avvicina di più No al suo cervello Perché capito? È vuoto quindi No vabbè no mi sento troppo cattivo Nei suoi confronti Infatti secondo me quando vedrà questo video mi piccherà Perché secondo me Boh mi piccherà Eh No Non sono stato io È stato il fantasma formaggino Com'è che l'avevano chiamato tipo Quello là Andiamo dal cartello Andiamo dal cartello Vediamo intanto quanto Quanti minuti di visibilità ci mancano Ci mancano Tre minuti E lei continua a scrivere Tipo Adesso scrivo tipo Faccio finta di essere arrabbiato Chiara Cosa vuoi? Voi Adesso faccio no Tutto così Eh Io veramente sta Chiara guaccia Io veramente non la capisco Proprio Allora facciamo Sì giusto Dovevo vedere come Come si chiamava tipo The new fantasma Giusto Vediamo The new fantasma si chiamava Ma tu cosa Coas vuoi? Allora le scrivo tipo Chiara Ti ripeto Che sono via Cioè io veramente Questa Chiara Cioè Si scurreggia addosso Sempre Boh Scioccato Adesso Adesso mi metto qua E non la faccio costruire Eh Certo Vediamo vediamo Ma scusa Quindi non ci sta cascando No? Cioè Eh beh Chiara oggi è più sveglia del solito A quanto sembra Ma secondo me Cioè scusami Non ci sono prove Che sia io Ok? Non ci sono prove Non capisco come lei Possa pensare solamente Che sia io Quello Che la sta Che la sta Prendendo in giro Cosa sta facendo là? Cosa sta facendo? Scusa ma Perché sta facendo questa cosa? Ma è stupida? Ma questo è il mio lama A parte che è un lama Un po' Un po' brutto Perché Capito Cioè Ha un po' di problemi Sembra Però scusa Perché sta chiudendo il mio lama? Non ho capito Ma questa è un assassino Ehm 118 Per favore No 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 Per favore Allora Mi sta inquietando Adesso è tipo diventato Spio La mia amica Chiara Mentre costruisce Per vedere cosa fa Perché è un po' inquietante Devo dire Adesso chiediamole Cosa fai? Vediamo Cioè pure io Molto intelligente Proprio ora che le ho Mamma mia Pure cioè Molto intelligente Vediamo però come mi risponde Perché cerchiamo di sviare No? Cerchiamo di dire Aha Capito? Cioè Adesso lei sta scrivendo No? Ma scusa Dovresti saperlo Eh? Ehm no 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 Tipo io le scrivo che Io so che ho trovato diamanti Non so per metterci qualcosa Mi hai chiesto di costruire No? No Ehm Sì ma dico come Sta procedendo No? Cioè Io ti odio Dice lei Ti odio Ehm Li voglio anche io I diamanti Sì sì Li ho proprio trovati infatti E beh Boh bene dice Aha Ok Sì sì Non mi hai solamente chiuso il lama In un pezzo di terra Brutto schifo Non so com'è che la posso chiamare Però c'è n'escurreggione To Perché è più bello Due secondi di invisibilità No 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 22 secondi anzi Vabbè è meglio prendere E bere la bottiglia Perché sinceramente Capito Così è molto meglio Io sto Mi sto impappinandomi Con le mie stesse identiche parole Giangiubertose Mannaggia Allo scrofone Però io direi adesso Di far Di torturarla male Perché cioè non è possibile Farla vivere Cioè Capito Eh Questo è The New Fantasma Che sta arrivando Sta arrivando The New Fantasma Io intanto mangio pure Perché io posso Capito Perché The New Fantasma Ma Eh dimmi Eh Cos'è che hai detto Hai finito Eh no Cioè nel senso Sono ancora qua in miniera Che sto scavando No nel senso Stai rompendo un po' i coglioni Eh 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 Cosa Eh Cosa stai dicendo Eh i pugni Eh i pugni Te li starei immaginando Non so Perché io Ti ho detto Che sono qua Se voi ti faccio pure Lo screen Io veramente E Sono qua Cioè non è che puoi dire Eh 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 Io ho appena visto morire Eh qualcuno davanti a me Perché appunto c'è uno zombie qua in miniera Che mi sta Mi si sta rompendo Praticamente Capito E quindi Eh Vabbè Tu a che punto sei comunque Di costruire il castello Ma abbastanza dai Abbastanza Ma che vuol dire Ah costruire il castello Tu quindi Sei arrivata a metà Della costruzione del castello No Della terra Assumilo Ah Capito Capito Vabbè E quindi Vai Cioè vai via Vai ritorna Grazie Ritorna a parlare con Angelo Vai Ma Vabbè Vabbè Ciao 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 Sì perché Dovete sapere che adesso Stanno parlando su TS In un'altra stanza Perché Boh Non so Cioè mi hanno abbandonato Cioè no In realtà me ne sono andato via Io perché capito Sono uno schifo Oye ma puoi dormire Eh no No perché Dico che posso Aspetta 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 Dico ora sì Ora sì Allora mi metto Tipo da Da questa parte qua E lei praticamente Non sa che io sto dormendo Cioè praticamente Vicino a lei È proprio inquietante Questa cosa Se posso dire No Eh ok Si è svegliata Attenzione perché qua È tutto quanto mattino Ed è mattino Giangiubertoso Si sa no Intanto io Intanto io Direi che Qualche dispettuccio Non ce lo toglie nessuno Anche perché lei Sembra essersi Tipo Thanks Eh No non ho fatto niente Aiuto 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 Se mi capisce Se mi capisce Se mi trova Se non mi capisce Eh ma ma scusa Eh cos'è successo Vabbè Dimmi dimmi Vediamo un po' Che è successo Che è successo Eh Eh boh Dice lei Tipo tutto così Eh boh Non si sa Vabbè C'hai capito Adesso la prendo A spadate Eh Non sono stato io Mi si rompono i blocchi Ah Come mai Cioè aspetta Adesso come mai Adesso tipo Lei sta prendendo A pugni l'aria No A spadate l'aria Cioè proprio intelligente Sì sì È proprio così Che si prende Cioè che si prende Un fan The new fantasma Ma che ne so io Bah Cioè io veramente Ciacobasita Proprio capito Sono proprio così Proprio Sciocco Stupidita Per non dire qualcos'altro Perché capito C'è la versione più cattiva Di sciocco stupidita Che è scioccorinco Capito Eh Esatto Eh Cos'è successo Non fa mettere i blocchi Non fa mettere i blocchi Eh starà Starà laggando il server Capito Oh Vabbè Comunque Io direi che è arrivato Il momento Di dire che in realtà Era tutto uno scherzo Che la sto prendendo io A palate Quindi adesso Vediamo un po' Andiamo Mi sto mettendo l'armatura E la sto prendendo a palate In testa Dunisiani Eh Vediamo Ma sei un coglione Scusami Ecco Saluta i dunisiani Perché sei stata vittima Di un altro scherzo Di dunis L'ennesimo Che No 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 Chiara Chiara Eh no Come non lo fai più No no Ora ti libero pure Il mala Il lama Il mala Esatto No scusa Allora tu Tu fai schifo Perché ho visto tutto È che mi hai Che mi hai bloccato Il lama In un pezzo di schifo Di terra Come la costruivo io La cosa lì Se c'è la lama in mezzo E ti sembra Di metterlo Nel pezzo di terra Cioè che Caspita vuoi Cioè io veramente E metti il guinzaglio Metti il guinzaglio Mettergli sto guinzaglio Mannaggia Gian Giugberto Ottavo Come non ce l'hai L'hai preso L'ama No Ah Ti uccido Vabbè questo lama Tanto mi stava antipatico Ne voglio prendere un altro Eh cos'è che stavi dicendo Niente Eh guarda che te la stai prendendo Con il mio lama Eh sì 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 Il lama non tradisce Il lama Dunis Però è un lama molto più bello Di Che stai prendendo Non so non so Ah ma forse questo è mio Perché io mi ricordo Che ho preso un mio lama Capito Ma quello Ah no Ma tu eri quello marrone Cosa hai detto No perché io ne ho preso un altro Capito Mentre tu non c'eri Mentre eri tipo via Perché il tuo colore Ti faceva schifo Sì Era molto brutto Come colore lamoso Il tuo colore scusa Allora Vabbè basta Ban Chiaquira Ho capito Direi che ho bannato Direi che ho bannato Chiaquira Dunisiani Questo video può finire qua E quindi Grazie per aver guardato Questo video E ci vediamo Al prossimo scherzo Spero di Non più di Chiaquira E Eh beh Beh pensa te Madonna E invece Vabbè insomma No dai Ti perdono Perché sennò Poi dopo i dunisiani Dicono Ehi ma hai bannato Chiaquira Che cattivo Che sei stato No adesso si Ti Ti Io sono così brava Sì Che mi prendi a spadate Divertente Eh sì Divertente Quindi Dunisiani Niente Se siete arrivati Fino a questo punto Del video Perché io lo sappia Chiara Stai ferma Se no ti banno Perché siamo raggiunti Alla fine Mannaggia A tua A te E al tuo intestino Crasso Esatto Scrivete mucca Nei commenti Dunisiani Perché io sarei una mucca Sì Vacca Guardo No Scrivete vacca Nei commenti Ci ho ripensato Scrivete vacca E quindi Perché Così vi metto il cuoricino E so che siete arrivati Fino a questo punto Del video E so che siete bravissimi E niente Ci vediamo Al prossimo video Eh sì Ciao 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 Ciao!